Com'è possibile riconoscere una relazione tossica? Esistono segnali specifici che possono aiutarci a identificare quando una relazione sta diventando dannosa e tossica. In questo video vediamo 10 segnali chiave che indicano che una relazione è tossica, che non va bene e che dobbiamo avere il coraggio di cambiarla. Il primo segnale è la mancanza di supporto reciproco. Per riconoscere che una relazione sia tossica bisogna capire se c'è una mancanza di supporto reciproco. In una relazione sana, per esempio, entrambe le persone si incoraggiano a vicenda, offrono sostegno emotivo e pratico nei momenti di difficoltà e celebrando insieme anche i successi. In una relazione tossica questo non avviene. Uno dei due partner può diventare disinteressato o addirittura ostile verso i bisogni e le aspirazioni dell'altra persona. Questo, per esempio, si può manifestare ignorando i successi o sminuendo i successi dell'altra persona. Il secondo punto è la manipolazione emotiva. È un chiaro indicatore di una relazione poco sana. Questo tipo di comportamento può includere una forma di manipolazione in cui, per esempio, una persona fa dubitare l'altra della propria percezione della realtà. Per esempio, il partner potrebbe negare di aver detto o fatto qualcosa di offensivo, facendoti magari credere che stai esagerando, stai interpretando male la situazione e quindi la colpa fondamentalmente è tua. Questo porta un profondo senso di insicurezza e confusione, facendoti dubitare anche di te stessa. Terzo punto, la comunicazione disfunzionale. La comunicazione nella coppia è fondamentale e alla base di una relazione sana. In una relazione tossica, per esempio, la comunicazione è disfunzionale. Cioè, porta una serie di problematiche, le discussioni spesso si trasformano rapidamente in litigi accesi, con accuse reciproche, attacchi personali. In alcuni casi che cosa succede? è che il partner potrebbe adottare un silenzio punitivo, rifiutandosi di parlare o di affrontare i problemi, lasciandosi ovviamente frustrata e isolata. Questo tipo di comunicazione non risolve assolutamente i problemi, i conflitti, ma li esacerba, creando un ciclo di incomprensione e risentimento. Quattro, controllo e gelosia ossessiva. La gelosia ossessiva e il controllo sono segnali evidenti di una relazione malsana. Un partner che cerca di controllare ogni aspetto della tua vita, dalle amicizie, al modo in cui tu occupi il tuo tempo libero, mostra un comportamento tossico. Questa forma di controllo spesso deriva da insicurezze. La persona gelosa non è mai una persona sicura di sé, è sempre una persona insicura, profondamente insicura. La gelosia ossessiva, poi, può manifestarsi attraverso delle accuse anche ingiustificate, quindi non solo dei dubbi, ma delle accuse vere e proprie di infedeltà, oppure, nell'altra parte del continuo, di una continua rassicurazione. Non sono segnali, ovviamente, di un amore sano. Quinto punto, isolamento sociale. Uno dei segnali più pericolosi della relazione tossica è l'isolamento sociale. Se il tuo partner cerca di allontanarti dai tuoi amici, dai tuoi affetti, dai tuoi colleghi, è probabile che stia tentando di isolarti per avere un maggiore controllo. Tutto questo, però, avviene in maniera graduale, in maniera sottile, con commenti critici sulle persone che frequenti, inizialmente, per poi evolvere in richieste vere e proprie di evitare, appunto, determinate situazioni o persone. L'isolamento può portare a una dipendenza emotiva, che però va a ridurre il supporto esterno, che potrebbe essere un ottimo aiuto, poi, nel momento in cui, veramente, hai bisogno degli altri. Sesto punto, dinamiche di potere sbilanciate. In una relazione sana, il potere e le responsabilità sono distribuite in maniera equa. In una relazione tossica, no. Uno dei partner può cercare di dominare l'altro, prendendo tutte le decisioni importanti su di voi, sui figli, nel caso avete anche dei figli, sui desideri dell'altro, insomma. Uno squilibrio di potere che può portare a una sensazione di inferiorità, di impotenza, in cui ti senti continuamente sminuita e non valorizzata. Le dinamiche di potere possono manifestarsi anche attraverso il controllo finanziario, quindi controlla il partner che controlla tutte le risorse economiche, limitando poi, ovviamente, la libertà tua. E costante critica, il settimo punto, ti senti continuamente criticata, svalutata, questo è un chiaro segnale di relazione che non va. Le critiche costanti possono erodere l'autostima, non ti fanno bene, non è giusto stare con una persona che ti critica costantivamente e questi commenti negativi possono riguardare qualsiasi cosa, quindi dall'aspetto fisico alle due scelte di vita, spesso accompagnati con un tono di superiorità e disprezzo. Quindi ti svaluta completamente. Attraverso magari il rifiuto di riconoscere i successi e minimizzare anche i tuoi sforzi. Ottavo punto, paura di esprimere i propri sentimenti. In una relazione tossica potresti sviluppare una paura crescente di esprimere i tuoi veri sentimenti. Questo, ovviamente, anche non deve accadere in una relazione sana. La persona deve essere libera di esprimere ciò che sente, ciò che sta vivendo. Avere una dimistichezza con le proprie emozioni è fondamentale e questo io, per esempio, che faccio un tipo di terapia particolare, la ISTP, per questo tipo di terapia, rappresenta un punto enormemente fondamentale. Mentre quando manca quel rispetto reciproco, del rispetto anche delle emozioni dell'altro, ovviamente non è una relazione sana. Non ho punto un'assenza di responsabilità. Se la persona che è accanto non si prende mai la responsabilità, la colpa non è mai sua, è sempre tua, vuol dire che è una persona tossica, è una persona che ti sta facendo vivere una relazione anche tossica. Non si risolvono i problemi in questo modo, ma si devono risolvere in maniera costruttiva. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Rifiutare di ammettere i propri errori e incolpare costantemente l'altro per qualsiasi problema è un atteggiamento, una forma di manipolazione anche che impedisce la risoluzione dei conflitti, ma non solo perché poi avrà delle conseguenze anche su te stessa come persona. Decimo punto, e non in ordine ovviamente di importanza, stress e ansia costanti. Se stai vivendo una relazione dove sei costantemente stressata e in ansia per questa relazione, probabilmente la tua relazione non è una relazione sana. Questo perché? Perché lo stress cronico sappiamo che ha delle conseguenze negative sulla salute, non solo fisica, anche mentale. Ansia, depressione, insonnia, attacchi di panico possono essere una conseguenza di uno stress cronico e ovviamente quindi prolungato. È importante riconoscere di essere in una relazione tossica e prendere in considerazione l'opportunità di cercare anche un aiuto, di prendere delle decisioni difficili per proteggere il tuo benessere. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia servito anche per un miglioramento anche della tua vita. Se sì, metti mi piace e iscriviti al mio canale. Sì, metti mi piace e iscriviti al mio canale. Grazie.